La festa si farà e ovviamente il tavolo tecnico è al lavoro per organizzarla al meglio, per garantire partecipazione democratica, sicurezza per l'evento, sicurezza per i cittadini e tranquillità, ovviamente con la collaborazione di tutta la città che deve dare il suo contributo come la città sa fare quando ci sono eventi così importanti. Quindi adesso si entra nel vivo dell'organizzazione dell'evento che voglio subito chiarire è un evento che è al centro Maradona, è la cittadinanza onoraria, il resto è spettacolo, è allegria, è gioia, è contributo di persone che amano il calcio, che hanno amato e amano Maradona e questo sarà un po' la sintesi di questo evento nella piazza del popolo della nostra città.